Per lasciatrice e campionessa del mondo Federica Brignone, ospite al Festival di Sanremo, sciare e musica, e tanta adrenalina. Dopo un breve scambio con Marco Mengoni e Amadeus, il primo ha ammesso di non aver mai sciato, il secondo ha fatto promettere alla campionessa di insegnargli almeno lo spazzaneve, Brignone ha introdotto Loredana Bertè insieme al co-conduttore, poi le ha lasciato il palco. Pochi minuti, importanti anche per promuovere lo sci in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ma un dettaglio ha fatto scoppiare una polemica, subito sedata dalla manager della sciatrice. Il motivo ha a che fare con il gobole elettronico, visibile in sala. Sul testo, come notato da alcune persone presenti all'Ariston, c'erano anche dei saluti per Sofia Goggia, che ha da poco subito un grave infortunio durante l'allenamento, riportando la frattura di Tibi e Malleolo. Ma la Brignone non ha pronunciato quelle parole. La rivalità sportiva tra Goggia e Brignone ha spinto alcuni a immaginare che l'omissione della campionessa sul palco dell'Ariston fosse deliberata. Ma, contattata dalla DN Kronos, la manager di Brignone, Giulia Mancini, ha smentito con forza, assicurando che si è trattato solo di un problema di tempo. Purtroppo non l'hanno neppure fatta parlare, ha detto, purtroppo sono tempi televisivi. In effetti la campionessa, arrivata sul palco con un casco da sci in mano, non ha accennato nemmeno alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A un certo punto ha dato l'impressione di voler parlare, ma è stata preceduta da Mengoni. E di lì a poco, come detto, è stata presentata per te e la campionessa ha lasciato il palco con Mengoni e Amadeus.